Sto qua, qua dove sta andando? Non capisco, è 90 l'ora, dall'altra careggiata, non può vedere, ma non ci credo, penso che sta andando. Quattro specie contro mano, è 90 l'ora, ma non ci credo. Ragazzi, ma hai 90 l'ora contro mano, questo cuore, ma non ci credo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.